A Nicosia in via Viola Torre è stata inaugurata Impiantistica Smart, una nuova attività che segna un importante passo verso l'adozione di tecnologie energetiche sostenibili. Alla cerimonia sono stati presenti il sindaco Luigi Bonelli, alcuni membri della giunta comunale e numerosi cittadini, a testimonianza dell'interesse e dell'attenzione della comunità verso un futuro più green. Dopo la benedizione a cura di padre Mario Di Bartoli e del taglio del nastro, i presenti hanno potuto osservare personalmente alcuni dei prodotti proposti. L'impresa, guidata da Adriano Giangrasso, esperto con una lunga esperienza nel settore energetico, si propone di installare impianti fotovoltaici e soluzioni elettriche all'avanguardia. L'obiettivo principale è promuovere l'uso di energie rinnovabili e contribuire alla riduzione delle emissioni inquinanti, offrendo al contempo un significativo risparmio sui costi energetici per privati ed aziende. L'impiantistica smart intende trasformare radicalmente lo stile di vita dei suoi clienti, incoraggiando l'adozione di sistemi energetici che sfruttano l'energia solare, una risorsa inesauribile. Questo tipo di investimento non solo riduce l'impatto ambientale, ma aumenta il valore degli edifici, migliora il comfort abitativo, garantendo performance energetiche e durature nel tempo. Grazie alla competenza tecnica, all'attenzione, alle reali esigenze dei clienti, Gian Grasso si impegna ad offrire soluzioni personalizzate ed economicamente vantaggiose, che rendono accessibile l'energia sostenibile e migliorino il benessere e la produttività di persone, garantendo un futuro più pulito per le nuove generazioni.